Weee che cactus fai! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi siamo alla ricerca del nuovo Fortbyte, quello è uscito una mezz'oretta fa, un'oretta fa ragazzi, sono appena arrivato dalle vacanze. Come si ottiene il Fortbyte? Si ottiene attraversando in skydiving, quindi rimanendo in cielo, gli anelli sopra Laguna Languida. E voi mi dite Xyuderone, diamine porca maiala, perché io non vedo gli anelli? Perché dovete andare nel vostro armadietto e selezionare la scia sgargiante. Una volta che l'avrete selezionata ragazzi, automaticamente appariranno questi anelli. E quindi una volta preso il primo, una volta preso il secondo, una volta preso il terzo, una volta preso il quarto, come vedete ragazzi, il Fortbyte è assolutamente preso. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live adesso. Ciao! Ciao!